Questa è una giornata che era saltata per un paio d'anni dopo Covid, non si era riuscita a fare, ma penso sia un momento importantissimo. Oggi si consegnano i diplomi a quei donatori che hanno raggiunto un numero cospicuo di donazioni di sangue, un gesto importantissimo che non costa nulla a chi lo fa, ma che può significare tantissimo per chi lo riceve. Questo è un movimento straordinario, particolarmente importante in questa regione. Noi siamo una regione che ha valori di autosufficienza più elevati, quindi significa che noi raccogliamo sangue e lo doniamo ad altre regioni italiane. Questo è il frutto del lavoro straordinario di organizzazioni come questa e della generosità della nostra gente, soprattutto in un momento dove il sangue diventa evidentemente molto, molto importante e soprattutto afferma un valore straordinariamente significativo.